Vado a cercare qualcosa da mangiare. Ho fame. Sì, ma sta ad entrare, è pericoloso. Sta tranquillo. Ines! Che c'è? 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 È una situazione maturata. Non una zona libera, ma una regione intera. Ines, ti prego. Portaci qualcosa da bene. Parliamo ancora. Ma se non è per tuo bocca. Mi piace ascoltarvi. Vedrai, Corbari. Tutto ricomincerà come prima. Meglio di prima. Non hai sentito il rumore? No. È il fiume. È il fiume. Sì, è meglio andar via subito. No. Avevi ragione tu. È il fiume. Ho trovato Corbari cambiato. Mi è sembrato che venisse da un luogo così lontano dove noi ancora dobbiamo arrivare. Cosa ci ha detto questa sera? che bisogna andare fino in fondo. Che il tempo per tirare il fiato o i momenti del riposo sono istanti perduti. e che? Tiaskolo? Startadı á! Massa, illa, illa! Quaci qui! Sparate! Casadei! Corbarì! Vieni via! Vieni via! Vieni via! Vieni via! Vieni via! Ma presto! Ma presto! Presto! Presto, vieni! Presto! Tu! Va via! Va via! Scappa! Scappa! Tu, via! Via! Alzatevi! Va via anche tu! Non vado via! Non ti lascio! Non vado via! Non vado! Non vado via! Non vado via! Non vado via! Vai! Vai! Vai 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.